Le vie dei tesori torna in città a partire da questo weekend, tre fine settimana dedicati alla storia, cultura, arte e anche natura sino al 25 settembre. L'edizione di quest'anno della manifestazione abbraccia ben 15 siti a Caltanissetta, comprendendo anche due location San Cataldesi. E si realizzerà grazie anche al supporto del Comune, al lavoro di un gruppo di cittadini, Alice Bifarella, Luigi Garbato, Michele Mendolia Calella, Aurelia Speziale e Pasquale Tornatore e alla collaborazione di diverse realtà del territorio e non solo, privati, enti ed istituzioni. Già da questo sabato e domenica si potranno visitare dalle ore 10 alle 12.10 l'archivio del liceo Ruggiero VII con tutti i nomi celebri che nel passato hanno frequentato la scuola e la biblioteca comunale. Dalle ore 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 17.30 la Casa del Mutilato, la Chiesa di Santa Maria delle Grazie e Istituto Maddalena Calafato. Dalle 10 alle 12.40 e dalle 17 alle 19.40 la Cripta della Cattedrale, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 17.30 l'ex Palazzo delle Poste, dalle 10 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 15.50 il Museo Averna, solo sabato dalle 10 alle 11 il Palazzo del Seminario Vescovile e il Museo Diocesano, il Museo Sostavisiva dalle 10 alle 12.30 e dalle 16 alle 19.30 il sabato, mentre fino alle 18.30 la domenica. L'ottocentesca Villa Benintende Sarisi, dalle 10 alle 11.30 e dalle 15 alle 18.00, solo la mattina, dalle 10 alle 12.15 il Serbatoio dell'Acqua di Monte San Giuliano e infine a San Cataldo, dalle 10 alle 11.30 e dalle 16.30 alle 18.00 la Chiesa delle Anime del Purgatorio e Cripta Cimiteriale e la Chiesa di Santa Lucia. Durante i tre weekend, prediligendo sempre la prenotazione, si prevedono anche delle esperienze tra degustazioni, vulcanelli ed ex miniere e anche una passeggiata nel quartiere Providenza, numerosi giovani che verranno coinvolti nel progetto.